Ciao a tutti, sono Chiara Trigiani, vi presento il mio nuovo singolo, uscito il 17 marzo con la Tilt Record, si chiama In un giorno di pioggia. Il brano è un omaggio a una grande band italiana, i Modena City Ramblers, ed è un brano che richiama le tipiche sonorità folk irlandesi realizzato con la band Irish Coffee. Brano che è più attuale che mai perché parla di esoli, di persone che sono costrette a lasciare la loro patria e ovviamente ciò ci riporta alla mente tutto quello che sta succedendo in terra ucraina, quindi questo brano vuole essere veramente un messaggio di pace lanciato nell'etere, in un momento in cui c'è veramente bisogno di pace e in un momento in cui la musica deve lanciare questo messaggio più forte che mai, questa in un giorno di pioggia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.